Musica Allora questa libreria si chiama Acqua Alta il nome viene perché l'acqua entra dentro ogni tanto l'alta marea ho cominciato circa 13 anni fa ti parlo del libro di Favola di Venezia di Corto Maltese fatto da Ugo Pratt e Fumetto di un veneziano Corto Maltese allora è un navigatore un marinaio un capitano di una nave che gira il mondo e ha tante avventure da tutte le parti è molto simpatico perché alcune volte scrive in veneziano quando ci sono degli indigeni che non si capisce quello che dicono lui lo scrive in dialetto veneto piace molto anche più famose in Francia che in Italia Musica 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 Musica